La città degli Scacchi è pronta giovedì alle 11 per la commemorazione dei quattro martiri della Resistenza Marosticense, dei quali quest'anno ricorre il 77esimo anniversario. Nell'impossibilità di una cerimonia pubblica, la città ricorda, con l'alza bandiera e con la deposizione della corona dall'oro al monumento ai caduti, senza la presenza di pubblico e senza orazioni ufficiali, Decimo Vaccari, Bruno Provolo, Luigi Nodari e Giovanni Rossi fucilati nel cortile del Castello Inferiore il 14 gennaio 1944, vittime fra le prime della guerra di liberazione.